Corruzione. Con questa accusa la Guardia di Finanza di Erba, su mandato della Procura di Como, ha arrestato nove persone e tra queste il sindaco di Valsolda, Giuseppe Farina. Con lui è finito in carcere anche Silvio Lamberti, suo socio in uno studio di progettazione, mentre altre sette persone, tra cui un tedesco residente in zona, accusate di essere i corruttori, sono agli arresti domiciliari. Il sindaco, in palese conflitto di interessi, avrebbe accettato 25 mila euro, apparente compenso per l'attività professionale svolta dal suo studio per rilasciare illecite concessioni edilizie. Ad essere rilevante, però, secondo gli inquirenti, non è tanto l'importo della corruzione. Da più che altro la sistematicità dell'attività di corruttela e poi soprattutto la circostanza che questa attività abbia riguardato un territorio particolarmente rilevante sul piano urbanistico e paesaggistico. È significativo l'aumento di fatturato dello studio di progettazione di Giuseppe Farina, passato da 70 mila a 200 mila euro all'anno, dal 2011, quando è stato eletto primo cittadino di Valsolda, il paese in cui Antonio Fogazzaro visse e ambientò piccolo mondo antico.